Aria di cambiamenti in Serie C, ovviamente stiamo parlando delle cessioni societarie di alcuni club. In primis del Foggia di Fellega, che in settimana dovrebbe cambiare proprietà con l'ascesa della dottoressa Pintus, imprenditrice sarda con molti interessi nell'RSA. Filippo Polcino, vecchio consulente della IDC di Izzo e Circelli, mai comparso nell'organigramma dell'Avellino Calcio, al contrario di tante voci, sta curando il passaggio delle quote societarie. Maria Assunta Pintus vantava un diritto di prelazione sulla società rossonera di Roberto Fellega, scavalcando gli interessi di Silvio, produttore cinematografico, che nelle scorse settimane aveva manifestato il suo interesse per il club rossonero. La società dovrebbe essere ceduta per 840.000 euro nelle mani dell'imprenditrice sarda, che rileverà il 50% dalla corporate investment. La chiusura è attesa entro il fine settimana, ponendo la parola fine ad una soppopera che dura ormai da troppo tempo. In casa Catania si attende l'ufficialità dell'acquisizione del club da parte del noto avvocato americano Joeta Coppina. Da oggi riprenderanno gli incontri con i componenti della SIGI, nella speranza che si possa presto giungere al closing, che dipende però dall'esito degli accordi con l'Agenzia delle Entrate e il comune di Masca Lucia sulla transazione debitoria. Tempistico ovviamente da definire, ma che sottolineano la difficoltà della trattativa data la mole debitoria molto alta per un club di Lega Pro regolarmente iscritto nell'attuale stagione sportiva. La volontà è di vedere il passaggio delle quote entro metà a marzo, cercando di abbreviare le attuali tempistiche. Intanto a Livorno si cerca di comprendere quale possa essere il destino del club. Mentre i tifosi cercano di attuare un azionariato popolare, nella città toscana si cerca di comprendere quali imprenditori possono essere intenzionati a rilevare il club. Franco Favilla, 55 anni, imprenditore lombardo con attività in un oceano di settori, pareva fortemente intenzionato a chiuderla a fare, ma al momento non si hanno notizia con il club che brancola nel buio.